Corsa decisamente aperta. Un 14-1 molto veloci da parte della figlia di Let's Go che conduce su Oimari. È rimasto di fuori Oco Daghi alla terza posizione alla corda per Osoppo mentre c'è l'errore dell'allieva di Enrico Bellei. Numero 11 Orodrin Baba. E viene squalificata 29-4 i primi 400 metri da parte di Omerta Dei Colli che si mantiene in vantaggio, ora cerca di ridurre il ritmo Maurizio Pieve sempre pedinato da Oimari e Osoppo, poi Oco Daghi che è rimasto di fuori scoperto la cui scia è stata presa da Loris Farolfi con onore dei sogni poi vediamo anche la Ocuba BD in terza posizione, in terza pariglia e poi Ortigia Rab. Giro in un minuto e sei decimi, ritmo abbastanza svelto da parte dell'allieva di Maurizio Pieve sempre pedinata da Oimari e Osoppo, ancora di fuori Oco Daghi con onore dei sogni che accena la terza ruota a chilometro in 1.15.6 quindi allunga ancora Omerta Dei Colli sempre pedinata da Oimari cede Oco Daghi dopo duro percorso esterno poi Osoppo in terza posizione alla corda che accenna a spostare 14.7 la frazione delle scuderie da parte di Omerta Dei Colli che ora viene affrontata da Oimari intanto guadagna qualche posizione di dentro vediamo il numero 1, Oilcan poi Osoppo di fuori, retta d'arrivo, Omerta Dei Colli Oilcan che ha avuto svolgimento propizio di dentro poi anche Oimari ma è Oilcan che prende il sopravvento ed è Oilcan per l'immediato doppio di Enrico Montagna secondo posto in piena spinta per Over del Sole poi lotta per la terza moneta tra Oimari e Omerta Dei Colli quindi Oilcan la buona quota di 4.17 è venuto a vincere questa seconda di Bologna grande giornata per Enrico Montagna al doppio